Con la conferenza antifascismo, resistenza, autonomia nel pensiero di quattro protagonisti dedicata all'8 settembre 1943 promossa dalla Regione, si sono aperti gli eventi organizzati nell'ambito delle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della resistenza, della liberazione e dell'autonomia della Valle d'Aosta, e previsti dalla legge regionale 14 del 2023, recentemente approvata dal Consiglio Valle. L'appuntamento è stato organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza e dalla Fondation Émile Chanoux. Sì, un momento importante che parte oggi, 80 anni di storie sono trascorsi, in questi 80 anni si è sovente ricordato dei momenti storici importanti, penso che oggi l'importanza invece sia partire dai pensieri che sono ancora molto attuali, pensieri di persone che hanno caratterizzato quel momento storico in maniera importante, quindi Nino Binel, Émile Chanoux, Chabot e anche Giulio Dolchi, che sono stati dei personaggi che hanno tracciato un percorso di crescita all'interno della coscienza e della comunità valdostana, ma anche a livello nazionale e internazionale. Ad aprire la riflessione sull'8 settembre 1943, sabato 9 settembre, nel Salone Maria Ida Viglino, sono stati il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza, Corrado Binel, Emanuela Ceretta, docente di storia del pensiero politico presso l'Università degli Studi di Torino e dal prossimo 1 novembre 2023 rettrice dell'Università della Valle d'Aosta. È stata una scelta ponderata, riflettuta nel corso del tempo, come voi potete immaginare, la Resistenza è stata più volte studiata, soprattutto dal punto di vista concreto, dei fatti d'armi, delle cose accadute, anche dei sacrifici personali e non soltanto dei caduti. A noi invece sembrava oggi più importante quasi l'eredità intellettuale di quegli anni, ciò che ci rimane ancora oggi concretamente come eredità, ma anche un'eredità proiettata nel futuro. Per tracciare e ricordare quel momento storico e i fatti che ne susseguirono sono stati scelti quattro protagonisti, Lino Binel, Emilio Chanou, Federico Chabot e Giulio Dolchi. La figura di Giulio Dolchi è stata tracciata dalla studiosa Simona D'Agostino. Giulio Dolchi ha lasciato sicuramente in eredità un'apertura che per l'epoca sia del dopoguerra ma per tutto il Novecento, in cui lui è stato protagonista della politica valdostana, di cui ancora oggi la Valle d'Aosta ne deve prendere atto. ne deve prendere atto. La questione importante da comunista, da militante del Partito Comunista, da dirigente del Partito Comunista è stata sempre la sua capacità, insieme a lui ovviamente il Partito Comunista valdostano, di mediare tra posizioni contrastanti all'interno della politica valdostana. La figura di Federico Chabot è stata tracciata dalla studiosa Antonella Dallù. Io credo che sia importante sottolineare di Federico Chabot lo spirito europeista e quindi la capacità di trasferire quelle che sono le sue indagini storiografiche sul rapporto tra idea di nazione e idea d'Europa nel contesto del progetto di autonomia per la Valle d'Aosta. Quindi la capacità di collocare l'autonomia valdostana all'interno di un contesto più ampio che è l'Europa. Grazie.